La Camera di Commercio di Bari stanzia ulteriori 5 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese in crisi di liquidità. I dettagli nella scheda. La Giunta della Camera di Commercio di Bari finanzia con ulteriori 5 milioni di euro il bando contributi alle micro piccole e medie imprese della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari per contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il bando era stato indetto lo scorso 13 luglio con uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro. Le quasi 15 mila domande giunte per ottenere i contributi a fondo perduto messe a disposizione dall'ente dichiara il presidente Alessandro Ambrosi sono il termometro della crisi di liquidità che le nostre aziende stanno vivendo. Con questo ulteriore stanziamento la Camera di Commercio di Bari fa un altro passo a sostegno delle imprese del territorio che da mesi vivono una fase economica di estrema criticità ha concluso Ambrosi. Tutte le info sul bando sul sito della Camera di Commercio di Bari